Ciao, sei qui per l'internazionale? Sì, da ieri. Leggi l'oroscopo di Bresley? Tutte le settimane. Senti, secondo te Bresley esiste oppure no? Io spero che esista perché è l'unico oroscopo che leggo, diciamo. No, secondo me esiste. E perché non viene male internazionale? Perché ha paura di essere delle reazioni dei suoi lettori. Bella domanda. Secondo me esiste ma probabilmente è impegnato a scrivere le assurdità che scrive che sono geniali in realtà, però sono abbastanza... Non credo che potrebbe affrontare un confronto terra-terra su quello che scrive perché è un genio. Ma ci credi negli oroscopi? No, però nel suo sì, sarà perché è molto spirituale come oroscopo. Non mi piace quello di questa settimana. No, però mi diverte leggerlo. Che segno sei? Capricorno. Toro.